Signora, le piace far funghi a lei, eh? Sì, tutti gli anni ci vado a farli, l'indicarbo a mangiarli e farli. Gioie e dolori, proprio così. I funghi capaci di inorgoglire decine di migliaia di cercatori, nonché di insaporire le pietanze sulle nostre tavole, costituiscono anche un rischio vero e proprio per i consumatori. In Maremma, così come nelle province di Siena e D'Arezzo, almeno 100 persone sono recentemente ricorse a cure sanitarie dovute ad intossicazione. Un fenomeno che puntualmente si ripete ogni anno, ma che di questi tempi, in piena emergenza coronavirus, preoccupa ancora di più le strutture mediche dedicate a ben altre patologie. Negli ultimi anni è stata presa con più leggerezza di quanto non si facesse in passato la raccolta dei funghi, anche perché probabilmente i vecchi cercatori che conoscevano bene le specie che raccoglievano ormai non ci sono più. Leccino, lardaioli e giallarelli. Lei come si regola? Ma è una vita che faccio funghi, le conosco, conosco molto, molti funghi, e prendo solo quelli che conosco. Prudenza è la parola d'ordine, dicono gli addetti ai lavori. Prima di mangiare i funghi bisogna sempre accertarne la commestibilità. Raccogliere solo i funghi che si è certi di saper riconoscere senza nessun dubbio e se si ha qualche dubbio e si vogliono comunque raccogliere vanno portati a far vedere dagli ispettori micologi dell'ASL Toscana.